Oggi a Padova si è svolto il commosso addio a Giulia Cecchettin, la giovane studentessa tragicamente scomparsa per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Ma prima di vedere come si sono svolte le esequie, ti chiedo di iscriverti al canale per non perderti nessuna news. Più di 8.000 persone si sono radunate fuori dalla Basilica di Santa Giustina per rendere omaggio all'amata Giulia. La cerimonia funebre, ufficiata nella Basilica di Santa Giustina, ha visto la partecipazione di circa 1.200 persone, mentre altri 8.000 hanno seguito le toccanti esequie tramite i due maxischermi installati fuori dalla chiesa. In un clima di profonda tristezza e solidarietà, Monso Claudio Cipolla, vescovo di Padova, ha rivolto un appello ai giovani presenti, esortandoli. Potete amare meglio e di più. Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha condiviso un messaggio commovente, dichiarando che la morte della figlia dovrebbe segnare una svolta nella lotta contro la violenza sulle donne. Un grido contro un male che continua a minacciare la sicurezza e la dignità delle donne di tutte le età. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia di Giulia. Ha sottolineato l'importanza di riaffermare il rispetto della vita. Un monito che risuona in un contesto in cui la violenza di genere rappresenta ancora una piaga sociale. La storia di Giulia ci spinge a riflettere sulla necessità di un impegno collettivo per combattere la violenza di genere. Condividi questo messaggio e unisciti a questa battaglia. Come possiamo promuovere un mondo più sicuro e rispettoso per tutte le donne? Lascia un commento con le tue idee e sostieni iniziative contro la violenza. Ricordiamo Giulia, una luce che continuerà a brillare nei nostri cuori. Aiutaci a mantenere viva la memoria di Giulia. Condividi storie di solidarietà e amore usando l'hashtag AshGiuliaCecchettin. Insieme possiamo fare la differenza.